Buongiorno, allora stiamo a Sorrento, appena svegli e facciamo un giro per la città per svegliarci ancora meglio. Non ho dormito proprio benissimo, ero sul letto a castello, faceva caldo, insomma, ero però stanco e la notte l'ho passata. Adesso ho un po' di mal di testa ma passerà, sento che mentre vi sto parlando già sto andando via. Ieri sera non siamo riusciti a salutarci, scusate ma nel giro serale di Sorrento poi ero stanco, avevamo anche bevuto un paio di bicchierini e quindi sono andato direttamente a dormire. La città di oggi prevede di andare da Termini fino giù appunto a Campanella che vi ho fatto vedere ieri dal mare dove finisce la terra, dove finisce il trekking simbolicamente. E poi baia di Ieranto, bellissima, una baia del Fai, se non vado errato, dove potremmo fare il bagno, infatti ho già messo il costume nella borsa, ero zaino. Adesso andiamo a mangiare qualcosa, facciamo colazione. In attesa di iniziare a camminare per Punta Campanella, wow, c'è un caldo già stesse. Ok, l'amministrazione, aspettate che qualcuno mi vuole dire qualcosa. Ieri dopo il campo in alcune situazioni un po' compromettenti, volevo mandarti una foto però non mi ha dato il tuo numero e quindi comunque tieno sotto controllo e in ogni caso ci sono io. Sei tranquilla? Fai, mi ha detto stai tranquilla e ho detto tutto. Che bello, mamma mia, dimmi la foto. Allora io vicino a questo signore qua, Battista de Kurdis che ha scritto la canzone Torna su Rient, aspettiamo insieme il bus. Oggi c'è un po' di mal di testa, mi riposo un po'. Allora siamo arrivati a Termini e adesso ci stiamo facendo un quadro dei panini da una salumeria che c'è qua davanti alla chiesa e dopo cominciamo a camminare. Bene, allora siamo partiti, Patrizia mi ha dato una sua barretta e mi sono un po' tirato su perché avevo troppo mal di testa e non avevo mangiato niente. Adesso andiamo, c'è un bel sole, abbiamo messo la crema e si cammina, via. Andare a Punta Campanella è semplice. C'è un sentierino bello che costeggia il mare e si vede capri e le altre isole laggiù ischia, procida. È molto tranquillo, è quasi in discesa. Eccoci qua, siamo arrivati a Punta Campanella. Adesso qua facciamo Punta, Punta Virgola. Dai Luigi, tira fuori il camping gas, facciamo la passata. Abbiamo la pomarola. Ho il minestrone di Le Anticchie. A Punta Punta, Punta Campanella. Non rende, ma c'è un bel buco. Un bel abisso. Questo è il trampolino. Torre di avvistamento. La parte migliore veniva selezionata e portata al Tempio della Dea Minerva per essere offerta. C'è una gita scolastica. So, sta finita. A Punta Campanella adesso dobbiamo salire. Sul Monte San Costanzo. Adesso ve lo faccio vedere. Non penso sia una roba lunga. Ecco qua, l'inizio della salita. Dovremmo arrivare laggiù, credo. Andiamo! Chi è qui? Che meraviglia! Come se non l'aveste mai visto. Una baia. Luigi, dove sei Luigi? Una bella salita. Una salita molto impegnativa. Quasi 500 metri di dislivello, ma fatti veloci. Un sentiero da capre. E poi sotto sto sole è impicchiata proprio. Non c'è l'ombra di una nuvola. Molto impegnativa. E manca ancora, dobbiamo arrivare laggiù. Dove c'è quella casa. Vabbè proseguiamo. Dopo andiamo a farci il bagno lì. Un giorno, ma non ancora. Scusate, mi sentite che saliremo. Non ancora. Spiaggiati. Facile, vero? Sotto l'ombra dell'unico pino. Il sentiero. Fresco. Un orario è tutto. Non ci posso credere. È una piccola zona d'ombra. Dei pini marittimi. Madonna, che bello. Un po' d'ombra, ragazzi. Se venite qui. Da Punta Campanella a Monte San Costanzo. Non salite su a mezzogiorno. Portatevi un litro di più d'acqua. E niente. Bellissimo qua. Vi faccio vedere. Finalmente un bosco. Dopo un sentinone da capre, senza vento, senza aria. Non c'è niente. Con la baia di Eranto Laggiù. Siamo finiti un parcheggio di macchine. Quindi c'è vita. C'è vita. Abbiamo ritrovato la civiltà. Ecco i sopravvissuti. Non vedevano l'ora di continuare la camminata. Purtroppo siamo arrivati. Purtroppo. Ma madonna. Adesso è che cominciamo a prenderci. Ah sì. Mi dispiace proprio. Questa strada. Abbiamo fatto un casino di strada. Madonna. Ma chi l'avrebbe detto mai? Comunque qua siamo al top. Questo è il golfo di Napoli. Non so se si vede. Perché facciamo la pena fatica a vederlo io da qua. E questa è la costruzione. C'è Monte San Costanzo. Ora me ne vado all'ombra. Sarà anche un bel posto. Per chi non l'avesse capito. ha detto che è un posto bellissimo. E lo raccomanda a tutti. Magica tuorca. Comodoro e mozzarella. Siamo trovati due panini e tre. Ripigliamo a camminare. Scendiamo giù a Nerano. E qua andiamo a fare un fantastico bagno. A Ieranto. Time to spremuta e time to granita. A O'Chiosco. La granita muore, no? Lei già stai giando la granita con la granita. La granita con la granita. 5 di quelle, 3 più 2. Ma quanti siamo in tutti? La granita di arancia è di muore. La granita di arancia è di muore. E' una delle ultime sfogliatelle ricche. Oddio, le sfogliatelle. Davole, me lo dice. E ho fatto un po' di doccia sotto la fontana. Si scoppia, si scoppia. Adesso andiamo a Ieranto, a Nerano. E poi la baia a fare il bagno. Allora, niente. A Nerano non siamo potuti andare perché c'era una pullman ritorno. E quindi abbiamo preso il bus per tornare a Sorretto. E dove siamo partiti. E niente, non era per un'altra volta. Dopo aver fatto il ritorno in ostello, un pisolino e un'oretta. Sto per ricaricarsi dalla mattina. Molto intensa. Adesso vado a fare un giro sorrento, un centro. Vedere un po' di cosa c'è da vedere. Alla fine sono rimasto qua a godermi il sole sulla terrazzina di Marina Piccola di Sorrento. E tra un po' vado a mangiare. Un po' vado a mangiare. bene, sono pronto a mangiare ok ragazzi, cenato, anche stasera tutto a posto, siamo belli pieni, adesso è ora di andare a dormire, grazie di avermi fatto compagnia anche stasera, buonanotte, ci vediamo domani per l'ultimo giorno in postiera mattina, domani trekking a Capri, ciao ragazzi, buonasera